un fruttore di videogiochi ci può essere una similitudine tra queste due persone? non solo c'è ma esiste anche una teoria abbastanza fondata che studia i media e i videogiochi in particolare che li vede come testi o più specificamente cyber testi quindi in un certo senso l'idea che il videogioco possa essere letto attivamente da un fruitore è in sé già una teoria insita nei game studies a partire dal 1997 quindi non è nulla di nuovo però siamo contentissimi che l'abbiate abbracciato cioè abbiate abbracciato il medium videoludico come non dico un'estensione della letteratura ma comunque come un'espressione culturale non solo valida ma che ha una rilevanza nella società di oggi e una possibilità di cambiare la società che non sono più ignorabili e quindi io spero vivamente che l'anno prossimo non noi magari, magari anche però che questa cosa continui Riccardo devo aggiungere qualcosa? Sì, io aggiungo solo che sempre più spesso tra l'altro videogiochi e letteratura convergono nei videogiochi in qualche modo saltino da un medium all'altro senza soluzione di continuità in modo molto naturale Grazie Continuiamo su questo parallelismo Nel 2011 è uscito un romanzo distottico Rediplier One in cui l'unica ancora di salvezza dell'umanità era quasi un universo parallelo astratto che si chiamava Oasis voi pensate che il videogioco possa aiutare il mondo dei libri nel futuro? La domanda è un po' strana anche perché Oasis e Libro non avevano nulla strettamente a che fare io li vivo come due media separati sono un fruitore di entrambi e non credo siano mutuamente esclusivi quindi la risposta è molto semplice dal mio punto di vista ho un momento nella mia esistenza quotidiana in cui il libro ha un ruolo dominante e un altro in cui i tentativi odierni di realtà virtuale ovvero come oggi ci approcciamo ai mondi virtuali ne ha un'altra quindi io nel libro non vedo una connessione necessaria tra letteratura e mondi virtuali ma in ogni caso non mi sembra che ci sia rivalità se non per il tempo dei giocatori Non credo che ci sia niente da salvare in realtà e quindi non penso che l'una salvi l'altra cosa potrebbero esserci delle integrazioni e delle convergenze ma non penso che l'una sia la rovina o la salvezza dell'altra di solito sono discorsi che si rivelano falsi nel lungo periodo Mi sembrava che si parlasse di Oasis come salvezza del mondo più che della letteratura ma mi piace anche la tua interpretazione Poco tempo fa il CEO di Tesla Elton Musk ha parlato che noi stiamo vivendo una realtà simulata cosa ne pensate di questa teoria? Elon Musk non ha inventato questa teoria è una teoria abbastanza fondata credo che sia nel 2001 che Nick Bostrom abbia proposto il Simulation Argument che cosa ne pensiamo risolverebbe tante cose e pare che la fisica dia ragione alla possibilità di una simulazione ne parla Gijek in uno dei suoi ultimi testi filosofici appunto continuando elaborando su questa proposta è plausibile che posso dirti sì è plausibile ma non voglio saperlo se è vero ok in questa ventesima edizione tutti gli autori a tutti gli autori abbiamo chiesto qual è il libro dei loro vent'anni qual è il vostro videogame dei vent'anni da zero vent'anni? dei vostri vent'anni cioè proprio quando io ne dico due nel senso uno mi ha cambiato prima dei vent'anni che era Another World di Eric Chahi ma mi sa che verso i vent'anni stavo giocando Smash Brothers e non ho ancora smesso il videogioco dei miei vent'anni è direi quasi certamente una qualsiasi iterazione di Mario Kart quella che era lì quando avevo vent'anni in generale è il videogioco quando avevo vent'anni e nel 2002 direi che era Gamecube double dash double dash va abbastanza bene grazie a voi